Ciao a tutti eh! Abito rosa e sorriso smagliante, Daniela Martani mette in musica i suoi sentimenti nella splendida cornice dell'Arapacis a Roma, dove l'amico Francesco Bellomo l'ha voluta per il concerto dell'amore, serata evento durante la quale l'ex grande sorellina ha sfoggiato le proprie doti canore con una cover di Mina. Canta l'amore Daniela, che però da due anni è single. Nella tua vita c'è un uomo in questo momento? No, purtroppo no, infatti io veramente non so più che cosa devo fare perché non riesco a fidanzarmi, sono due anni ormai che sono single, è tantissimo! Se qualcuno anzi sente rappello che faccia Gossip News, vi prego!